Raffreddore, ecco i rimedi naturali. Contro raffreddore, influenza, febbre e mal di gola, le piante medicinali e dunque la fitoterapia possono essere di grande aiuto. Possono contribuire a mantenere il sistema immunitario in salute e quindi, come conseguenza, l'organismo si difende al meglio quando sono in agguato i malanni tipici della stagione fredda. Come funziona la fitoterapia? La fitoterapia ha sempre avuto, e assume ancora oggi, importanza strategica. Le piante medicinali possono essere utilizzate per curare le sindromi parainfluenzali in ambito preventivo, quindi per rafforzare le difese immunitarie e migliorare l'adattamento dell'organismo ai disturbi di stagione, ma possono anche essere impiegate come trattamento nelle diverse connotazioni sintomatologiche. I trattamenti preventivi per rafforzare le difese immunitarie vanno iniziati ora seguendo attentamente le indicazioni riferite a ogni prodotto.